attenzione qui c'è qui una nuova epic battle di clash of clans oggi si sfideranno il barbaro contro l'arcere qui c'è lo stregone che fa la giuria e ci sono come pubblico bocciatore pecca eccetera eccetera su dj spingi quella merda io sono il barbaro e sono il migliore tutti mi usano su clash of clans anche su clash of clans siamo i più utilizzati voi siete degli stronzi andate a cagare gli arcieri non fanno un cavolo poi noi siamo i più fotti ammazziamo orde di giganti e poi danno i cicatoni santi poi gli arcieri ve ne pendirete perché siamo noi migliori in questo gioco ma che cazzo volete cari barbari con le truppe aeree non potete fare proprio un cacchio gli arcieri possono eccome farti il culo in due secondi siete del mongolo e ti andate a quel paese e noi siamo i più forti su clash of clans e clash royale in tutti e due giochi ci usano a voi non vi cacca più nessuno caro arcieri mi hai rotto le scatole sono io il più utilizzato il barbaro è il più forte tu hai preso si avvicinerà la tua morte oh 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 vi state riscaldando su dj spicci quella merda vabbè io sono il barbaro e son numero uno a voi non vi caglia più nessuno vi diamo dei calci in culo E poi ve ne andate Come babè Siete voi i babè Noi siamo i più utilizzati Andate a cagare perché nessuno vi vuole E poi E poi Voi avete rotto Oh 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 Commentate scrivendo Barbaro oppure Ascere Se il video non vi è piaciuto Non mi dovete segnalare Anzi dovete passare In un altro video Vogliamo almeno 10 like Per una nuova Epic battle di Clash of Clans Ciao ciao